Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo... che cosa faremo Smilo? Oggi faremo un unboxing! Sì! Per l'insattezza apriremo i Dino Squad! Queste bustine sono prodotte da Coco Ico e possiamo trovare il vero C-Haptor il Carnotauro, lo Stegosauro, lo Spinosauro, l'Anchilosauro, il Tirannosauro, il Triceratopo e gli speciali che sono il Giganotosaurus che si illumina al buio e il Mosasauro che è metallizzato. Wow! Che bello! Prima di tutto, stavolta abbiamo comprato anche il magazine dove troveremo tantissime curiosità sui Dino Fauri questo bellissimo poster altre curiosità dei giochi un Dino Fauri un Dino Fauri da colorare e le soluzioni non fate vedere! Va bene! Ah, e comunque potete seguire Coco Ico su Facebook, Instagram e Youtube e come sempre la prima bustina è mia! Va bene Smilo! e abbiamo trovato un Triceratopo! Ah, hai trovato un Triceratopo! Sì, certo! Ciao ragazzi! Grazie per avermi liberato! Triceratopo! Guarda Mamb, abbiamo anche un poster! Allora, il Triceratopo ha attacco 3 difesa 5 e dimensioni 5 Infatti ad attaccare non sono poi tanto bravo ma se qualcuno mi fa del male so difendermi la mia caratteristica principale sono le mie tre corna due grandi sulla fronte e uno piccolo sul naso ah, è solo un erbivoro quindi mangio l'erba e anche se sembra incredibile anche animali delle mie dimensioni fanno le uova Mambo, questa l'apri tu va bene Wow, Mambo, hai trovato un Dilophosaurus! Ciao ragazzi! Ciao, come va? Il Dilophosaurus comunque è più bravo ad attaccare che a difendersi perché in attacco ha 4 e in difesa ha 3 e in dimensioni ha 2 Eh, in effetti non sono poi tanto grande considerato che sono un dinosauro Sono un animale carnivoro e quindi fate molta attenzione quando mi incontrate La mia caratteristica principale sono queste due creste qui Guardate i miei artigli mi sono molto utili per afferrare le prede E con questi denti io mangio le prede Caspita! Questo Dilophosaurus mi sembra un tipo pericoloso Infatti è proprio pericoloso Dilophosaurus E sono anche molto intelligente Bene ragazzi Il video finisce qui Mi raccomando fateci sapere se questi Dilophosaurus vi sono piaciuti E se vi siamo piaciuti lasciate un mi piace Certo È così che devono farcelo sapere Sì Ah E non dimenticate di iscrivervi al canale di Smiddle & Mamb Altrimenti vengo a casa vostra e vi mangio Intanto mi metto a dormire Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti